In questo video ogni 5 secondi otterrò un oggetto completamente casuale nell'inventario e adesso ho ottenuto un cartello di spruce Direi che non è la cosa migliore con cui iniziare però prendiamo subito la nostra attrezzatura E direi che il nostro obiettivo è quello di uccidere l'Ender Dragon nel minore tempo possibile Abbiamo un Elder Guardian Spawn Egg, non so cosa farmene Ma dobbiamo subito prendere il legno perché non è detto che le cose che otteniamo Sono tutte utili, potrebbero anche essere completamente inutili, chi lo sa Il cibo ci abbiamo, anche i letti, oh bello che mi dà i letti I letti mi servono per uccidere l'Ender Dragon ma non la Pink Concrete Powder Invece mi serve un amico ero un Golem che devo uccidere come sempre E non è che c'è un Fabrus o il villaggio ovviamente no, non sono mai fortunato nella mia vita Però saliamo e lo uccidiamo con calma Nel frattempo abbiamo del legno e anche un arrow, una freccia con Instant Damage 2 Che potremmo usare per danneggiare il Drago effettivamente Qui ci serve anche un arco Non so se può darmi oggetti incantati, mi ha dato un libro con efficienza 5 E anche un salmone, va bene Facciamoci tutto una crafting table Ci serve un secchio d'acqua Io spero che mi dia un piccone in diamante e in ferro per favore Uno è quello che si credo Spoon Egg, proprio quello che cercavo Poi diventerà un casino avere tutte cose nell'inventario che non mi servono a nulla Mi servirebbe anche della Flint, dove la Flint? Scendiamo nel mare blu e prendiamo tutta la Flint che ci serve, ovvero ci serve solamente una Non è che ce la troppo direttamente, no, non me la darò randomicamente, devo raccoglierla io come sempre Evitiamo di affogare, vediamo cose che abbiamo Abbiamo uno smeraldo, una crossbow, questa è utilissima E anche un libo con l'hack of the sea 2, ok Allora buttiamo le cose completamente inutili Che magari ci arrivano cose dopo più utili di queste Un'acqua, non c'è un diamante buonissima questa, sì che è buona Questa sì che mi piace Adesso dire di andare un po' in miniera e cercare Abbiamo, abbiamo un Activision Ma un Activision ci abbiamo lo stesso, quindi non serve a niente questa Andiamo in caverno a cercare una bellissima pozza di lava Io comunque ho ottenuto una pozione di Tattle Master E anche un libo con Impaling, ho preso anche i letti E dobbiamo buttare via tutte queste cose Shulkybox, interessante, postante Iiii, Humainshaft Con la Shulkybox possiamo tenersi nostre cose belle e bellissime Però dobbiamo scendere ancora un bel po' perché mi serve una vera pozza di lava E tu sparisci dalla mia vista che sei nulo E vabbè mi danno anche l'arco Vabbè ma mi vogliono benissimo oggi Cosa mi ha spruato? Ah beh se fosse un mob invece mi stanno droppando cose Devo liberarmi l'inventario Scendiamo di qua Oh abbiamo trovato una pozza di lava finalmente Di diamanti? Noi ci sono diamanti no Amai nella vita che trovo qualcosa di utile Allora facciamo un subissimo portale qua Devo aprire tutta questa zona spero di farlo giusto Se no mi metto a piangere Mettiamo qua la sabbia, mettiamo qua il pistone E qua l'acqua, ho fatto tutto giusto Spirandisi Quanti libri sto avendo? Non mi interessa Un libro basta, libri Non mi interessano i libri di efficienza E anche lo smeraldo Ma se io pesco una lava cos'è che succede? Non succede niente Il nostro portale è completato Nel frattempo ci facciamo il flint e steel dove la selce No raga non dite Ho buttato la selce Siamo sempre che ho buttato L'unica cosa che mi serviva Ma dai dimmi che c'è la taggrave qua per favore Ma io ti scongiuro Ma dai Io va bene che sono stupido Ma così tanto non me l'aspettavo Diamanti Mi serva altro ferro Raga ho appena vi ho Mi hanno appena dato Ho una città di nederite E un piccolo nederite Cosa non me faccio del ferro adesso Niente me ne faccio del ferro Ho troppe cose Giambuso non mi interessa Vendiamo i diamanti che sono bellissimi diamanti Ho sei diamanti Mi faccio un caschetto inutile Ho ben nato una flint Insieme a un gatto Ho un gatto qua Cosa mi faccio il gatto? Però la flint è utilissima Che fortuna Una fortuna nella mia vita ce l'ho Queste non me ne faccio nulla Basta Ho due posizioni di strength Queste sono buone dai Sono carine queste Io vorrei subito Un bellissimo bastione O una bellissima fortezza Se fosse possibile Non chiedo Il chiedo per favore ovviamente E questi mi vogliono morto Andiamocene via Ma guarda qui Cosa abbiamo trovato Un bellissimo bastione Mi sa che è uno di quelli brutti però Uno di quelli molto brutti Ok ci siamo Ma quante cose ho l'inventario Perché c'ho un mulo Vabbè un altro letto Un letto ciano Fa sempre comodo un letto Aiuto 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 Ho fatto una stupitaggine Ho fatto una stupitaggine Ho fatto una stupitaggine Scava e vattene via Scava e vattene via Ok Devo scavare sotto del chest Adesso sotto del chest Allora qua c'è una chest E abbiamo Un po' di frecce Va bene Ma non c'è per niente dell'oro Allora questi mi servono E ci mettiamo subito Andiamo all'altra chest Che dovrebbe essere Quattro Cinco blocchi più là forse Vediamo se è qua sopra Non è qua dov'è? Ah dall'altra parte proprio Ok E lì Non l'avevo vista io Eccola qua Buongiorno Va bene Buonissimo Cosa abbiamo Intanto stiamo sputando cose ovunque Vediamo qua sopra se c'è la cesta L'abbiamo trovata Altro oro Ci siamo messi bene Ci manca l'ultima cesta Ti prego dammi altro oro Così sono Messo quasi benissimo Dai All'incirca No l'abbiamo superata forse Eccola qua Apriamola E niente di troppo interessante Po di frecce Ci facciamo andare bene Intanto tuo amico mio Prendi l'oro che c'è lì E porterò altri tuoi amici a qualche parte Anche della lava Non so cosa farmene Ma va bene Ci può stare Ma quante cose Sto buttando ok Va benissimo Questo che ho buttato Non so Delle stringhe Va bene Abbiamo sei enderpearl La crying obsidian Anche un po' di spretta L'arro Va benissimo Tutto il resto Non ci serve a nulla Atemi altri enderpearl Per favore Ci siamo Perché ho della blaze powder Va bene Non ce la mentiamo Abbiamo dieci enderpearl Benissimo Ho buttato anche La crying obsidian Sarò stupido io Avete fitto l'oro Scusate Ne abbiamo quindici Ok Ci bastano quindici Sì ci bastano quindici Dai Direi che van benissimo Adesso abbiamo solamente Cercare una bellissima Io sto sputtando funghi Va bene Allora facciamoci Così Cosa dobbiamo fare resistance Nel caso Cadiamo nella lava Non moriamo Davanti a miei occhi Scorgo una fortezza O sbaglio Trovo anche di blaze Ma per tutti fare resistenza È finita E questa non è una cosa Molto bella Perché mi serviva Contro il blaze Cos'è meno Non prendevo fuoco Ma ci ho peccato un po' D'arriva qua Ma non fa niente Non preoccupiamoci L'ucido lo stesso Adesso questi mi sparano Ma io non mi faccio problemi Andiamo subito al mob spawner E allora T'ho messo bene Dai Sono tutto colorato Il don fiore E l'omino nel blaze rod Lanciamoci giù Forza Ci ho fatto in volte blaze rod Ok ne abbiamo una Ne abbiamo una e mezza Io forse direi che ho un piano Allora innanzitutto evitiamo di morire Poi ci diamo Regenere No generation No Non ci diamo generation Ci diamo Ci buttiamo qua 32 Così ci temo subito i blaze Sono geniale Io sono troppo intelligente Quindi in un colpo Dovevo shottarli Praticamente Va che bello Che bello Però se non me troppano È un problema Ho fatto una strage Di oggetti C'è anche un tridente Peccato che non sia incantato Comunque abbiamo abbastanza cose Per potercene andare direi Questa non è un amenante È uno speedrun Quindi io posso anche morire Se voglio Arrivederci Siamo qua in mezzo alle montagne Abbiamo un'altra sugar box Ma non ce ne facciamo nulla Abbiamo 15 blaze powder 15 ender eye Cioè 15 ender Abbiamo anche 15 ender eye adesso Seguiamoli E vediamo dove ci porteranno Però devo riprenderlo Per favore Si è rotto Che sfortuna Raga È appena successe una cosa incredibile Da parte di questo puto item Stavo viaggiando Su mia bellissima barchetta E niente Mi guardo un po' intorno Vedo qua sotto E vedete anche voi Cosa c'è qui sotto Sì C'è uno stronghold Cioè Io sto andando uno stronghold così Lanciando praticamente un occhio E guardando in acqua E mi è perso proprio qua Ma che cavolo C'è uno stronghold qua così Nel mare Vicinissimo allo spawn Beh che mi lamento Mi fa bene così Io sono contentissimo Ebbè ma anche l'elitra Ma raga Il mondo mi vuole bene allora Sono tutto abbinato io qua Questa è alta moda Alta moda Questa è alta morta Altro che alta moda Beh non è l'entrata principale Ma comunque un'entrata E noi non ce la mentiamo comunque Evitiamo il silverfish E ho buttato un blocco di diamante Ma sinceramente In realtà potrei farmi qualcosa Prendiamo qua Lo prendiamo subito Facciamo così Facciamo così Abbiamo un po' di diamanti Levati e levati dalle scatole Andiamo via Eccoci entrati Allora dobbiamo salire E uccidere subito L'endredragon Cosa principale da fare È rompere tutti gli anticristal Poi proveremo a fare Wine cycle con il letto Abbiamo la nostra balestra Abbiamo un bel po' di frecce Penso che bastino Spero che bastino Nel frattempo Butteremo in giro Un bel po' di item Ottimo direi Adesso buttiamo Tutte le cose inutili Mi servono solamente I letti Ho rotto tutti gli anticristal In teoria Spero di sì Il targo mi sta sparando Non voglio morire Grazie La prendiamoci Tutti i letti Nella prima Mano Il primo slot L'inventario Dobbiamo subito Aspettare che scenda Che poi sarà la nostra Ora per ucciderlo Abbiamo ben sei letti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letti E non ti ho mai Io ti giuro Non ti stavo guardando Avevo l'inventario aperto Un'altra Entra per in più Mi stanno uccidendo Gli enderman Ho 3 Deve conto Ma che cavolo è successo Qua Nel frattempo sta scendendo Ok va benissimo Dove è andato estra Giusto è andato estra Spero di sì Vediamo se mi ricordo come si fa Non mi ricordo come si fa Ma ci provo comunque Per favore Devi morire in qualche modo Deve provo a ucciderlo Ok tutto l'ho fatto Va bene Facendo schifo Ho appiattato un pig Ho appiattato un piglin Allora Dove è strength Subito strength Ok ci abbiamo Vieni qua drago Non sento niente Sta urlando Come non so cosa Dove è la testa Ok Ci abbiamo fatto Ragazzi Abbiamo ucciso L'hentra dragon Allora Non sono uscito Con il one cycle Ma va bene Avevamo strength Ci abbiamo fatto comunque Eh Va bene Ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Noi ci vediamo domani Con il nostro video Grazie per esserci stati Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti